Second Life, Giuseppe Catalano, Dario, state smontando tutte le cassette con fondo in cartone, in legno che si trovano, anzi se qualcuno ne ha, fatevi avanti perché servono, perché state facendo delle cornici meravigliose, da dove nasce l'idea, perché lo fate, quali sono i beneficiari del vostro lavoro gratuito? Eravamo davanti sul mercato e c'era questa catasta enorme di cassette per frutta, da lì è nata l'idea Second Life di dare una seconda vita a queste cassette, perché? Perché deve essere anche un modo di pensare, dare una seconda vita a qualsiasi cosa, vedere degli alberi tagliati, buttati così, a noi non piace, nasce per una tutela dell'ambiente e dare un sorriso ai bambini che stanno ricoverati all'oncologico di Bari. Ognuno può scegliere la sua foto, può scegliere anche come personalizzare la cornice, il colore, qualsiasi cosa, pezzettini di stoffa, brillantini, chiodi, noi recuperiamo tutto, anzi se volete donare qualcosa, fatelo perché c'è sempre bisogno. Abbiamo bisogno di qualsiasi cosa per personalizzarle a vostro piacimento. Il costo di una cornice varia dai 20 ai 30 euro, la maggior parte dei casi sono sulle 20 euro. Noi ci rimettiamo, nel senso che benzina dell'auto perché andiamo a recuperare, oppure la carta vetrata per raschiare, le spazzole del dreamer, che non si trovano, che non è facile trovare, il tempo dedicato, sottratto ai vostri familiari, ma a noi non ce ne frega niente, a noi interessa tutelare l'ambiente e regalare un sorriso ai bambini. Perfetto, quindi ci dite formalmente come si fa a raggiungervi o anche per, lo so che è facilissimo, ma in modo tale, qual è la pagina? La pagina è second life, basta scrivere 2nd leaf, scriviamolo, diciamolo terra terra così, e vi si contatta in quel modo. Qualsiasi messaggio in privato noi rispondiamo il prima possibile, dando tutte le spiegazioni che volete. Cheppe non sta facendo le cornici. C'è qualcun altro che risponde, non siamo solamente noi due, ci sono anche altre persone, Claudia, ci sta Viviana, ci sta Francesca, ci sta Romano, che è il ragazzo che con il suo studio, con la sua tipografia, ci stampa gratuitamente queste foto. Pure lui gratuitamente. Cioè le foto voi le scegliete, lui le stampa gratuitamente perché ognuno deve dare questo. Penso la briga banco di… Le lavora pure le fotografie. Le lavora, sì, perché non è che siamo tutti fotografi, spesso è quella del telefonino. Non è che siamo tutti fotogenici, più che altro, quindi ognuno… No, su quello, manco il Photoshop funziona. Ci sono dei progetti che stanno in divenire, no? Quindi sappiamo che con l'Asfa, l'associazione che si occupa di autismo, state molto collaborando. Che cosa farete adesso? Allora, ci stiamo organizzando per un'asta di beneficenza. Le cassette per la frutta si dividono in due categorie, quelle in legno e quelle cartonate. Quelle cartonate hanno già un destino segnato. Qual è? E infatti è proprio quello dell'asta perché creeremo questo tipo di cassette. Come questa qui, no? Si vede che non è in legno. I bambini andranno a disegnare o a scrivere quello che loro pensano in quel momento. Anche una parola tipo cassa, buongiorno, arrivederci, benvenuti. Oppure con le mani, con dei pupazzi, dei disegni loro e verranno messi all'asta. Il tutto ricavato andrà loro perché hanno un progetto loro che si chiama Casa di Pandora. Diciamo che un'attività commerciale in qualunque momento lo può mettere come cartello. Torno subito, per esempio. E quindi diventa un circolo virtuoso, non vizioso, della solidarietà. Attività commerciali, se volete. A farsa avanti. Fatevi avanti, 20 euro, queste sono per voi. Però avete una cosa bellissima lì, regalate un sorriso. E ha un significato intrinseco potentissimo. Potentissimo, perché noi a breve stiamo per raccogliere il primo lotto di soldi e fare il primo regalo ai bambini dell'oncologico. L'idea è quella di, per ogni cornice, ricavare i 50 centesimi, un euro, che servono per farci avere un alberello dalla regione, dal loro vivaio, regalarlo a chi ha comprato la cornice, regalarlo a uno spazio pubblico comunale, regalarlo a un asilo, regalarlo a un ospedale. Chi lo vuole, noi ci siamo e regaliamo un albero in più al mondo. Ecco, questo è un metodo Art Fluid che ci ha donato l'artista Margherita Colucci, che presto metteremo all'asta insieme alle altre cornici. Quindi ragazzi, fatevi avanti. Chi può donare la cassetta, chi può prendere la cornice, chi ha un ricordo da mettere inciso, appiccicato su questa cornice, perché Second Life ogni cosa ha la seconda possibilità. E non buttiamo niente, non buttiamo e recuperiamo tutto. Tutti, anche i chiodini che mantengono tutto, lui recupera tutto e li riutilizza.